Grazie a tutti Spero davvero che la mia esperienza vi abbia aiutato Ami, no Ami, no No Adesso dirò il nome Eh, no Eh Bad dreams, bad dreams go away Rilassare l'ho rilassata Ami Ma sei un trattorino Questo ti veniva proprio dall'interno C'è il famoso rospo Questo ti veniva da Sì, sì, dall'interno Ma Ok Buongiorno È stranamente rilassata Questo Ma il solito Primark è la sua pazzesca qualità Grazie a tutti ma cosa sei? ma cosa sei? a volte di questo gioco di solito di questa marca compro mosca permettendo, vacca boia e traffico ma che è cioè? perché so che hai aggiornamenti? ma chi chiama quest'ora però? perché? si ha aggiunto grazie grazie